io non credo che possa finire ora che ho visto cos'è guerra cos'è guerra civile so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi e dei caduti che facciamo perché sono morti io non saprei cosa rispondere non adesso almeno né mi pare che gli altri lo sappiano forse lo sanno unicamente i morti e soltanto per loro la guerra è finita davvero a quei tempi gli attacchi facevano ridere adesso che erano cose massicce e tremende anche la semplice sirena sbigottiva se restavo in città fino a sera non c'era un motivo tutta una classe di persone i fortunati i sempre primi andavano o se ne erano andati nelle campagne nelle ville sui monti o sul mare là vivevano la solita vita toccava ai servi ai portinai ai miserabili custodirgli i palazzi e se il fuoco veniva salvargli la roba toccava ai facchini ai soldati ai meccanici poi anche costoro scappavano a notte nei boschi nelle osterie dormivano poco grazie a tutti